Musica Buonasera a tutti qui da Campus Party, la prima edizione in Italia, siamo allo stand dell'Università Bocconi con il professor Stefano Caselli, nonché prorettore agli affari istituzionali dell'Università. Come mai l'Università Bocconi ha deciso di investire sulla prima edizione di Campus Party Italia? Campus Party è un'iniziativa di straordinario successo, il format è incredibile, quindi giovani di tutte le età, di tutte le provenienze che hanno possibilità di incontrarsi e dialogare insieme, quindi è così che si fa veramente attività di creazione di impresa, si fa start-up. E Milano, quindi una città che sta assolutamente decollando e visibile a livello internazionale, quindi un perfetto allineamento di stelle, quindi è corretto che la Bocconi ci fosse con molto entusiasmo. Qual è il vostro ruolo e come state interpretando la mission di Campus Party e come state accogliendo anche i talenti, i cosiddetti Campus Eros? Stiamo lavorando in due modi, da un lato contribuiamo giorni e notti a promuovere il dibattito, abbiamo portato tantissimi speaker, nostri docenti, testimoni del mondo delle imprese e della finanza che portano la loro esperienza e la condividono, quindi possono essere un esempio per i giovani, un punto di riferimento, quindi per scatenare il dibattito. Dall'altro lato abbiamo questo stand qui per presentarci a tutti, i ragazzi e ragazze che hanno voglia di scommettere sul loro futuro. Noi ci siamo e presentiamo quello che fa la Bocconi. Ecco, in questa prospettiva, in ultimo, quali sono gli orientamenti e i prossimi step dal punto di vista operativo e concreto che la Bocconi offre sia agli studenti sia ai giovani in generale? La Bocconi innova continuamente, quindi non ci si può mai fermare, quindi deve rispondere ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze. La Bocconi è presente nel mercato della formazione, a livello di triennio, di biegno, presentando una sua offerta completamente in inglese, però a livello di start-up la Bocconi c'è, dal 2015 ha lanciato un'iniziativa che è Bocconi Start-up Day, un'iniziativa in cui studenti, alumni della Bocconi possono partecipare a un evento in cui si incontrano investitori, quindi un momento assolutamente straordinario, la Bocconi è presente sul mercato con un suo incubatore e con tante iniziative che vogliono studiare e promuovere quello che è il concetto di imprenditorialità. Ecco, noi ringraziamo Stefano Caselli, auguriamo un buon campus, anche se siamo ormai agli sgoccioli, mancano 4-5 ore alla cerimonia di chiusura e in bocca al lupo per i prossimi impegni. Crepi il lupo e buon campus parti a tutti!